Niente, oh, sono stato a fare tutti gli esercizi Allora E non ha registrato Vediamo bene Allora, ho fatto un altro video di 10 minuti Ho fatto uno e due che non sono venuti Quindi possiamo dire che il labbro è abbastanza avanzato Nel senso che l'ho fatto suonare rispetto a mezz'ora Per una persona che non è studiata tanto Mezz'ora solo gli esercizi cominciano a essere un po' faticosi Ma quella è proprio l'idea di dover abituare il labbro alla resistenza Principalmente resistenza a flessibilità Cioè la capacità di saltare da un armonico all'altro Di prenderlo pulito Uno degli esercizi Questo è per tromba Io lo leggo come sta scritto come se fosse tromba Sono questi esercizi di flessibilità Dovrebbero essere scritti tutti in un tono sotto Ma io il trombone non leggo in big band Quindi lo uso principalmente per improvvisare Lo dovrei usare per improvvisare Quindi avendo in testa tutte le tonalità della tromba E per sassoprono che sono in si bemolle Io per ora leggo così E per sassoprono che sono iniziato Lo inframmezzo con una scala Lo inframmezzo con una scala E' un fratto più di terza Ok Ok Ogni tanto ci metto una musichetta La faccio Mi serve per sviluppare la musicalità E' un fratto più di terza Il nostro corso Ok, non ho visto in tempo l'audio. Allora. Questa è una cosa che faccio io, lo so che molti dicono che non bisogna fare cose, vado oltre il limite fino a che comincia a sbagliare per andare avanti, quindi adesso lo sto facendo a una velocità non pulita. Se siete curiosi, ecco, ho fatto le prime due righe come se suonassi una tromba. Allora. 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 Seconda ottava. Questa è difficile perché si passa dalla nota a quella superiore che è l'armonico sopra. Sceso. Allora. Fa. Sol. Fa. In realtà fa sol. Fa naturalmente. Ter verlossare. Fa. Un interessante. Fa Uva. Fa. 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 Il labbro cominciano a segnarsi. Buongiorno. C'è acqua, certe volte integro, adesso ho fatto il trombone, qui sarà, adesso faccio sto spingendomi verso per togliermi il sapore del trombone o di solito io questo vorrebbe essere utile a me, può stare da una cosa di trombone a una cosa di trombone, comunque non lo faccio mai senza uno stacco, cioè nel senso un pezzo, poi ritorno perché per me è stato difficile andare avanti, comunque a 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 adesso farò la prova addirittura con il tuba o premetto che questo strumento non suona indipendentemente da come lo sappia suonare io ecco qua ecco qua il tubone a 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 ok queste erano le quattro linee primi esercizi adesso vediamo un po' ovviamente lo strumento che mi viene meglio è il terzo e il trombone ovviamente lo strumento che mi viene meglio è il terzo e il trombone a 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 ok sono 17 minuti e 22 per ora può tastare